Ma la ragazzina sta come stanno tutti i figli di separati, eh? Quello che importa è l'amore, no? I soldi servono, no psicologo. Come ti chiamo? Barbara. E come stai, Barbara? Sta bene. E quanti anni hai? Otto anni. Immagina che questo qua infonde il mare. Puoi metterci dentro tutte le forme che vuoi. Ma che è un gioco? È un modo di sognare con le mani. E lei non gioca mai. All'otto. Ebbè, se non gioca lei con questo nome. Fortunata. Devi giocare col cuore. Devi fare una strategia basata sull'amore. Come sta? Ma vuole che sta? Ma la conosco io e Barbara? Non la conosce nessuno. No, 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 no. Come sta lei? Ma che se pensa che mi esito qui e racconto i fatti miei? E allora perché sei seduta? Non sta bene! Ma tanto che me ne frega a voi, eh? Tu non sai la merda che mi ingoi ogni giorno con il sorriso in bocca? Io non ti posso più vedere, lo capisci? Io non posso più vedere tua figlia! Io non posso! Non posso, non posso! Era il dottore mio! E te te sei messo in mezzo! Tu non conti un cazzo, capito? Io sono il padre, poi non c'ho diritti. Ma te la parola diritti non sai ma come si scrive. Era il segreto nostro. Ma quale segreto? Che solo cazzate noi due siamo capaci a dire. Ma tu non puoi vivere così, ci sono le istituzioni, le regole, sei sempre in guerra con tutto. Ma te le regole hai rispettato quando mi sei zompata addosso? Se non vado in giro a zompare addosso alla gente. Io mi so giocare a tutto, tutto quello che avevo! Ho perso tutto! Lo sai che mi diceva sempre mio padre? Ma chi lo dice che sta vita è meglio di quell'altra? Però questa è l'unica che conosciamo. Grazie per la visione!